Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Econo My FWG, se c'è una cosa che sta a cuore a noi friulani in modo particolare è sicuramente la casa, ecco il bene forse più prezioso che abbiamo sul quale investiamo gran parte della nostra vita e questa sera parleremo proprio del mercato immobiliare, in particolare del nostro territorio perché vogliamo capire un pochino quali sono le tendenze, come sta andando il mercato, chi sta vendendo casa, chi la sta comprando, come stanno andando anche le locazioni, insomma c'è molto fermento anche perché ci sono naturalmente tutta una serie di bonus fiscali che riguardano il mondo della casa che hanno incentivato e poi purtroppo la pandemia, il Covid ci ha fatto scoprire quanto importante sia non solo avere una casa e viverci bene ma magari che abbia anche uno spazio, un giardino esterno, insomma diciamo che sono cambiate anche le esigenze di noi friulani in quest'ultimo periodo e questo ha dato, insomma, impulso anche alle compravendite delle case. Non solo di questo, parleremo questa sera con alcuni ospiti che ci hanno raggiunto qui in studio che vi presento subito a cominciare dall'avvocato Paolo Scalettaris, presidente di Confedilizia Udine. Buonasera avvocato. Buonasera, buonasera. E poi il mondo delle agenzie immobiliari. Buonasera Alino Domini che è il presidente di Confcommercio FIMA Udine. Buonasera. E buonasera Luca Macoratti, presidente della FIAIP di Udine. Buonasera Daniele e buonasera a tutti. Allora, partiamo subito, partiamo subito allora da Macoratti per chiederle, insomma, di tratteggiare per quanto possibile un quadro del momento attuale di quello che è il mercato immobiliare sul nostro territorio. Ecco, come sta andando, come è andata anche in questi ultimi mesi? Beh, direi che come primo oggettivo, poi penso che il presidente Lino sarà d'accordo con me, è un mondo un po' curioso quello dell'immobiliare in questo momento. C'è stato sicuramente un effetto dovuto al Covid, il Covid è un po' stravolto alla vita dei tutti, ha stravolto anche un po' quello che è il mercato immobiliare, Daniele. C'è stata sicuramente una crescita a livello di compravendite nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, e c'è stata anche una cresta, un sensibile aumento dei valori dei prezzi di mercato. Questo diciamo che è il primo aspetto sicuramente positivo per quell'aggettivo che definivo curioso prima. Assolutamente sì. Allora, lo chiediamo anche a Domini, insomma, questa prima sensazione di come sta andando, insomma, in questi mesi. Positivo, come dice il collega, certamente l'aumento dei prezzi dal 5 al 10% è stato determinato anche da tanti altri fattori, fattori legati a quello che è il costo della materia prima, che sappiamo tutti, e dall'altra parte fattori legati anche al costo della mano d'opera, perché in realtà la mano d'opera ha fatto forza, avendo tanta richiesta, ha fatto forza a un aumento anche quello che sono i costi orari. Dall'altra parte l'aumento delle compravendite è stato determinato anche dal bonus 36 anni, e quindi l'agevolazione all'acquisto delle giovani coppie chiaramente ha spinto e la parte del leone sicuramente sono i finanziamenti che sono arrivati a tal punto che gli interessi costano talmente poco e quindi il vantaggio è quello di spingere a comprare piuttosto di pagare una canone di locazione, insomma. Ecco, ci si chiede sempre qual è il momento giusto per comprare casa, sembra sempre che sia il momento giusto, nel senso che in questo momento, insomma il costo del denaro, anche chiedendo un mutuo alla banca, naturalmente è molto basso, quindi come stava giustamente sottolineando lei adesso, vale la pena fare adesso questo investimento, insomma i tassi sono bassi, ci si può arrivare, poi bisogna vedere anche quanto sono disposte poi le banche a finanziare, sicuro non è più come un tempo in cui si finanziava anche il 110% del valore. Certo, è certo che il finanziamento viene dato alla persona che ha una redditività tale che un terzo dello stipendio che percepisce deve andare a pagare il pagamento del finanziamento. E quindi diciamo che il costo di un canone di affitto è quasi quasi pari a quello che è il costo di un finanziamento, per cui l'interesse ad avere casa propria e l'interesse diciamo a progettare un proprio futuro è proprio quello di fare un acquisto, insomma. Eh sì, insomma poi entriamo anche nel dettaglio di quali sono le zone, i prezzi, insomma il mercato dove sta andando. Avvocato Scalettari, lei insomma rappresenta un po' i proprietari diciamo degli immobili, Ecco, in questo momento essere proprietario di immobile cosa significa? Sono più vantaggi o svantaggi, insomma al di là della casa d'abitazione naturalmente? Insomma, indubbiamente il vantaggio di essere proprietario di casa propria è un aspetto impagabile. Certo è che la situazione così come si va evolvendo sia con riguardo ai problemi specifici legati all'epidemia, alla pandemia, all'emergenza, sia con riguardo ai problemi soprattutto normativi che in qualche modo stanno emergendo e il problema che in qualche modo preoccupa tanto i proprietari di casa è quello della ventilata, ma peraltro nemmeno è più ventilata, ormai programmata, riforma del catastro, sono problemi rispetto ai quali la condizione di proprietà è una condizione che così dà luogo appunto a preoccupazioni. Accanto a questo poi ci sono altri aspetti che sono aspetti di interesse, che sono aspetti però anche di necessità di attenzione e necessità devo dire anche di, come dire, di informarsi, di essere seguiti, di rivolgersi nelle sedi opportune per essere in qualche modo aiutati ad affrontare problemi, le tante questioni che proprio in questo periodo sono nate con i bonus fiscali che riguardano gli immobili. Sotto questo profilo, proprio come organizzazione che rappresenta i proprietari, notiamo che c'è da parte di tantissimi proprietari, soprattutto da parte di tantissimi condomini, c'è vivissimo interesse, c'è la spinta a fare ricorso agli strumenti che sono stati approntati nella direzione indicata, però c'è anche questa preoccupazione per la complessità della cosa. Eh sì, insomma si riferisce un po' al super bonus, diamo anche qualche dato, insomma sono gli ultimi dati che ci sono arrivati che riguardano fine 2021 e sono quelli degli aggiornamenti dell'Enea appunto sull'andamento del super bonus in Friuli Venezia Giulia, riportano che gli interventi attuali sono 2.600, in particolare 204 sono inerenti ai condomini, mentre 1.675 riguardano le unifamiliari, naturalmente nel nostro territorio sono quelle che la fanno da padrone, 721 le unità indipendenti, il totale degli investimenti ammessi a detrazione è di circa 350 milioni di Euro, di cui 247 milioni si riferiscono a interventi già conclusi e questo insomma testimoni anche quello che ci stava raccontando lei, anche se nei condomini sicuramente c'è qualche problematica in più, anche se sembra visto dall'esterno più semplice, ma in realtà non è così scontata, ecco la questione. No, nei condomini il fatto stesso che i condomini si trovino a dovere ragionare sia su parti oggetto di proprietà esclusiva, sia su parti oggetto di proprietà comune e perciò il problema anche del coordinamento tra le cose, ma anche proprio il problema giuridico proprio del rapporto tra parti comuni e parti di proprietà esclusiva, indubbiamente rende le questioni più complicate. Ci sono problemi di individuazione, di modalità di gestione della cosa attraverso le assemblee condominali che devono essere parecchie rispetto alle quali deve essere individuato in modo preciso qual è esattamente l'oggetto dei diversi ordini del giorno e diverse delibere dell'assemblea che devono essere assunte. Noi come Confedilizia abbiamo in realtà predisposto una sorta proprio di mappa delle assemblee condominali che devono essere organizzate con individuazione dei vari argomenti proprio per individuare un percorso che sia un percorso tale da consentire di pervenire alla conclusione della vicenda con, diciamo, senza problemi o comunque con meno problemi possibile. Però ci proprio constatiamo che sul fronte dei condomini la cosa, anche a Udine, anche qui proprio in sede locale, la cosa ha qualche momento di rallentamento proprio in ragione di queste difficoltà, della necessità di coordinare tante cose e anche, diciamolo francamente, anche in ragione del timore che tanti hanno di esporsi a delle iniziative che se poi vengono ad essere condotte in qualche modo non conforme a quanto prevede la legge possono dare luogo a delle conseguenze sul piano delle responsabilità in termini proprio economici con riguardo alle spese, ai bonus, all'importo dei lavori e a delle responsabilità pesantissime. Per cui la cosa va vista ed è giusto che venga vista con estrema attenzione. Allora, grazie. Noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo per dare un po' il dettaglio di quelle che sono, insomma, le zone e quelli che sono i prezzi, insomma, che stanno andando in questo momento tra poco. Seconda parte di Economai FWG, il bello del mattone, questo è il titolo che abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera, parliamo del mercato immobiliare, lo abbiamo già fatto con i nostri ospiti nella prima parte di trasmissione. Adesso entriamo un po' nel dettaglio con Luca Macoratti che è presidente della FIIP di Udine. Allora, tratteggiamo un po' l'identikit di quello che è l'immobile che viene più ricercato al momento. Allora, diciamo come dicevamo prima, il Covid ha stavolta un po' le abitudini, anche nel mondo del mattone. Sicuramente c'è una maggiore ricerca a degli spazi esterni, sicuramente c'è una maggiore ricerca ad un terrazzo abitabile, c'è una ricerca ad un giardino, va per la maggiore in questo momento, negli ultimi mesi, la casa indipendente col giardino, la villa è taschiera o comunque gli appartamenti che abbiano uno sbocco esterno. E sta diventando più difficile vedere l'appartamento, il classico appartamento, senza uno sbocco esterno, quindi senza un giardino esclusivo o senza un terrazzo che sia abitabile. Una cosa interessante che abbiamo notato è che c'è anche per ovvi motivi la ricerca alla stanza in più. La stanza in più perché con il discorso della DAD, quindi delle seguire le lezioni della scuola a distanza o con il discorso della smart working, si necessita comunque di uno spazio maggiore all'interno dell'abitazione. Un'altra cosa che abbiamo rilevato con gli osservatori FIAIP è la tendenza comunque a riabitare e a richiedere nuovamente il centro storico e comunque le zone servite della città. Negli ultimi anni c'è una tendenza a scappare, passati in termini, dalle città per andare nella prima preferia, appunto per cercare un giardino, uno sbocco esterno, un po' di aria pulita, un po' di natura. Ultimamente il Covid ci ha fatto notare come sia essenziale avere i servizi sotto casa, a portata di mano, servizi tangibili e in poco tempo. Quindi la ricerca nella città è aumentata e di conseguenza sono aumentate anche i prezzi, logicamente nel centro storico, nel centro città, ma anche nel primo onello. Quindi le zone... Indicaticamente gli aumenti sono stati all'incirca del 5%. E' vero, come diceva prima il collega Lino, che sono anche aumenti dovuti comunque al costo della materia prima e tutto il resto, però c'è stata anche una forte richiesta e di conseguenza c'è stato anche un aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi è anche conseguente comunque, come giustamente si accennava prima, ad un abbassamento dei tassi di interesse. Ormai parliamo di tassi fissi che si aggirano dal 0,90 all'1,70 come tasso finito, tassi variabili con un euribor che ormai siamo negativi da sei mesi. Tutto questo quindi ha portato a un leggero e sensibile aumento dei prezzi. Domanda e offerta come si incrociano? Nel senso, magari l'abitazione indipendente che diceva lei con il giardino, quante ce ne sono disponibili a fronte di quante richieste ci sono? Cioè il mercato riesce a soddisfare la richiesta oppure no e quindi i prezzi di questi immobili chiaramente li evitano? Sono la casa indipendente con il giardino, purtroppo ce ne sono molto poche. Tenete presente che a Udine in questo momento c'è un parco commerciale in venta di circa 14.000 abitazioni. Logicamente comprendono le case da ristrutturare, le case indipendenti, le bifamiliari, gli appartamenti in condominio, che sembra un numero molto alto. Però quando andiamo a snocciolare questo numero vediamo che le case indipendenti sono molto molto poche. C'è anche una motivazione, si parlava prima del bonus del 110%. Questo effetto potenza di fuoco, come veniva chiamato inizialmente dal Presidente del Consiglio, è stato un'arma a doppio taglio perché ha portato anche a un aumento sensibile anche più del 5% che è la media sulle case indipendenti, sulle case con il giardino e soprattutto sulle case ristrutturare. Ecco, su questo Domini, la gente cerca di acquistare una casa per poi risistemarsela o prima magari la sistema e poi la vende, in caso magari di una seconda casa, magari ereditata in questo caso, ecco sul fronte ristrutturazioni, qual è l'area? Beh, Dio, fare una ristrutturazione non è così semplice, anche perché la documentazione da presentare agli organi competenti è abbastanza impegnativa e di conseguenza è chiaro che le persone prima di fare un intervento per ristrutturare e poi vendere, devono guardare un po' i numeri e guardare i conti. È chiaro che la persona che eredita un immobile è propenso eventualmente o a farla vendita oppure a ristrutturarla tenendo conto un po' anche dei costi finali, insomma, perché giustamente se manodopera... Si, lo pensavo in questo momento in cui c'è, insomma, è chiaro che se non esistesse il super bonus questa domanda non avrebbe senso, tra virgolette, di esistere. In questo momento è chiaro che ci può essere quel vantaggio fiscale che se uno ha la possibilità di farlo magari può essere portato a un'operazione del genere. Tutta la documentazione è complicata, ma dall'altra parte anche il costo dei tecnici per riuscire all'ottenimento di tutta la documentazione è lievitato. Dall'altra parte è normale perché devo dirle che tutta la documentazione deve essere rivista con tutte le concessioni presso gli organi competenti, per cui la richiesta alla prenotazione presso i comuni affinché ci sia la possibilità di fare l'accesso agli atti e tutte le copie e verificare se gli immobili sono consoni a quello che è la realtà dei fatti. Il problema sta che negli anni 70 gran parte dei proprietari aggiornavano quello che era una situazione catastale ma non una situazione legata al comune e quindi tutte le concessioni e tutte le scia, dia e tutte le pratiche inerenti affinché ci sia un rapporto di continuità dal momento in cui è stato realizzato l'immobile al momento in cui poi, al momento di oggi. In tanti in questo periodo, come abbiamo visto, testimoniano anche le vostre parole, stanno pensando di vendere casa o pensando di acquistare casa, di cambiare casa. Cominciamo a dare qualche consiglio anche a chi sta per comprare casa. Poi magari pensiamo anche a chi sta per venderla. Come ci si orienta? Le prime mosse che bisogna fare per evitare insomma anche delle fregature? Perché insomma i soldi che ballano quando si compra a casa non sono pochi? Allora, un'attenzione sicuramente a chi compra a casa. Non vorrei tirare l'acqua al nostro mulino. Sarebbe l'ideale che venissero da una persona che abbia l'esperienza alle spalle e che dia quello che sono le giuste considerazioni. Purtroppo non molte transazioni tra privati hanno il buon fine, secondo me. Ma perché? Perché la complessità, vediamo noi, il rapporto che abbiamo tra venditore e acquirente e quanto complesso è la vendita in tutte quelle che sono le sfaccettature legate alla situazione urbanistica, alla situazione dei condoni, alle situazioni legate alle spese di condominio e quant'altro. Per cui ci troviamo ad avere, nel momento in cui facciamo una transazione, ad avere una mola di documentazione abbastanza importante pur di garantire quello che è la compravendita finale. Oltretutto il venditore si trova in una posizione che deve garantire urbanisticamente un immobile su quello che è la transazione attuale. Per cui siamo nelle condizioni che riusciamo a scoprire, essendo professionisti del mestiere, a scoprire quello che possono essere delle situazioni che bisogna per forza sanare in modo tale che non ci siano contenziosi futuri. Ecco, Scalettaris, anche da avvocato, quante sono le cause che ruotano intorno al mondo della casa? Dopo fatta una compravendita, alle volte vengono fuori dalle situazioni, alle volte vengono fuori prima. Si sa che la casa fa litigare spesso, soprattutto quando ci si deve trattare per comprare o per venderla. Come sta andando da quel punto di vista? Qual è la situazione? Ma quello che, e in qualche modo rispondo alla sua domanda, quello a cui stavo pensando, proprio mentre sentivo parlare della responsabilità del venditore e del rapporto che viene ad instaurarsi tra venditore ed acquirente, un aspetto che proprio anche come Confedilizia abbiamo avuto modo di mettere a fuoco e rispetto al quale ci siamo resi conto di quanto sia necessario che venga prestata attenzione, è l'aspetto della responsabilità del venditore e anche dell'interesse dell'acquirente con riguardo a quelli che sono i rapporti nell'ambito del condominio quando viene acquistato un appartamento in condominio. Teniamo presente che rispetto a questo tema ci sono molti profili che spesso non vengono nemmeno proprio presi in considerazione, ma profili che possono avere un peso considerevolissimo. Si pensi per esempio da un lato al fatto che chi acquista un immobile in condominio viene ad essere responsabile per le spese condominiali e per il periodo antecedente il suo acquisto viene ad essere responsabile insolido con il venditore. Ma poi ci sono aspetti quali per esempio la pendenza di cause nell'ambito del condominio, cause che magari durano da chissà quanti anni ma che poi avranno il loro esito quando già si è verificata la compravendita e a quel punto vengono ad avversi problemi tra venditore e acquirente rispetto alle conseguenze che possono anche essere a volte solo naturalmente Chi è che tutela rispetto a questo? Il notaio che nel momento in cui fa l'atto oppure possono essere cose che non competono neanche al notaio e passano? Infatti, proprio questo è interessante sottolineare. È previsto espressamente dal codice civile che il condomino possa richiedere all'amministratore del condominio un documento che fotografi in sostanza la situazione dell'appartamento ma direi più ampiamente la situazione del condominio rispetto a tutti questi problemi sia rispetto alle spese, a ciò che è dovuto e ciò che è stato pagato sia rispetto alle liti in corso È una cosa che è importantissima che venga richiesta ed è anche importantissima che venga formulata, che venga predisposta dall'amministratore in modo completo e in modo tale proprio da soddisfare le esigenze a cui ho fatto cenno Ecco, anche questo non compete al notaio quindi questo potrebbe essere una sorpresa che si trova dopo No, almeno in Italia non compete al notaio però diciamo che chiunque abbia un ruolo in qualche modo di aiuto nei confronti delle parti del contratto di compravendita dall'agente immobiliare al notaio, comunque al consulente è bene che queste cose le suggerisca e spinga perché le cose vengano fatte in questo modo diciamo così virtuoso Perfetto, grazie, ci fermiamo per la pubblicità poi con i nostri ospiti torniamo a parlare di casa e non solo insieme con Economai FWG la casa al centro di questa trasmissione in particolare le compravendite, visto che come abbiamo sentito dai nostri ospiti il mercato in questo caso tira Marco Ratti, abbiamo parlato un po' di chi vuole comprare casa vediamo anche di chi vuole vendere casa naturalmente quando si mette la propria casa in vendita si spera sempre di realizzare il massimo e si ha sempre l'idea che la propria casa valga molto in questo caso come funziona? Chi stabilisce il prezzo? Il mercato sicuramente ma il prezzo di partenza come lo si stabilisce e qual è più o meno nel nostro territorio insomma un identikit, un range di prezzo Hai detto una cosa giustissima Daniele beh, prendo spunto dal titolo della trasmissione Il bello del mattone Il bello del mattone è che in Italia come in Friuli siamo un po' tutti allenatori di calcio e siamo un po' tutti agenti immobiliari questo poi nel pratico e nella vita quotidiana crea molte complicazioni Il primo consiglio al venditore che mi sento di dare è quello di affidarsi sempre tirando l'acqua logicamente ai nostri mulini ma per serietà è quello di affidarsi a un agente immobiliare che sia professionale che sia possibilmente iscritto a un'associazione di categoria seria che sia FIAB, che sia FIMA ma che perlomeno sia iscritto l'agenzia abbia i requisiti minimi da rispettare il codice deontologico i requisiti minimi poter operare quindi che usi dei formulari depositati in Camere di Commercio che l'agente immobiliare sia iscritto quindi che possa logicamente aprire una porta e chiedere una mediazione questa è la cosa principale Il consiglio che do al venditore è anche quello di farsi fare da un agente immobiliare una stima scritta che attesti la reale valutazione di mercato dell'immobile in quel momento io ho fatto la battuta che siamo un po' tutti allenatori di calcio un po' tutti agenti immobiliari perché logicamente quando tendiamo a valutare le nostre cose tendiamo a sopravvalutarle perché dentro ci mettiamo non solo l'aspetto economico ma ci mettiamo sicuramente anche affetti e quant'altro quindi ecco che magicamente l'immobile non vale più 100.000 ma vale 150.000 questo poi va a falsare tutto il mercato ponendo sul mercato un immobile ad un prezzo molto alto o comunque più alto si rischia di perdere tempo si rischia fra virgolette di rovinare anche l'immobile perché lo lasciamo sul mercato un periodo non congruo e quindi perdiamo potenziali clienti non solo e rischiamo anche di fare invece il gioco di altri venditori nel senso se in una stessa zona abbiamo più immobili immobili che sono a prezzo di mercato logicamente vengono venduti a scapito del nostro che non è a mercato se posso Daniele collegandomi al discorso che faceva l'avvocato Scalettaris che l'ho trovato giustissimo è un consiglio che mi sento di dare anche a chi compra invece quando entra in agenza immobiliare e proprio lì si vede anche la professionalità del mediatore che viene giustamente tirato in causa quando la compravento non è fra privati è quello di richiedere sempre un consiglio pratico per i nostri telespettatori è quello di richiedere sempre almeno gli ultimi tre verbali dell'assemblea condominiale in modo che possiamo vedere se ci sono delle spese straordinarie deliberate se ci sono delle pendenze quello è un piccolo consiglio pratico ma sarebbe buona norma cominciare a chiederlo insieme a una visura ipotecaria e altre cose che se poi vorrai avere molto tempo ne parleremo sì sì possiamo dirle subito perché poi magari cambiamo per dare qualche consiglio esatto benissimo tre consigli quattro velocissimi pratici richiedere sicuramente gli ultimi tre verbali di assemblea le spese condominiali a quanto montano richiede un apprendimento di catastale una visura ipotecaria e una visura catastale immobile queste sono delle cose che già in principio possono tutelarci domini ricordiamo anche velocemente quali sono le spese che dobbiamo per forza affrontare quando compriamo la casa perché ci sono delle spese che oltre all'acquisto della casa sono inevitabili le spese al di là delle provvigioni dell'agenzia che comunque devono essere è giusto che siano quant'è la percentuale diciamo corretta come può chiedere un'agenzia gli usi e consuetudini della camera di commercio stabiliscono un 3% e poi è chiaro che c'è la trattativa oltrovare la soluzione dall'altra parte le spese sono una tasse di registro dal notaio il costo è l'onorario del notaio per l'atto del notarile e il costo anche per il finanziamento possiamo fare un 10% circa del valore dell'immobile alla fine dal 10 al 13% circa di quello che potrebbe essere il costo dell'immobile poi dipende se è prima casa o se è seconda casa chiaramente cambiano le percentuali ricordiamo anche queste cambiano le percentuali tra la prima casa e la casa di vacanza se vogliamo dire poi parliamo anche delle seconde case avvocato velocemente qual è il rischio maggiore quando si fanno delle compravendite tra privati in cui si può incappare adesso fare una classifica dei rischi francamente è difficile non so quello che così dal punto di vista anche proprio professionale capita di constatare è indubbiamente ed è il problema a cui facevo accenno prima questo problema delle sorprese diciamo così che l'acquirente viene ad avere a seguito di un acquisto che non sia stato accompagnato da una informazione preventiva completa circa soprattutto con riguardo agli immobili in condominio circa la situazione condominiale riferita a quella unità immobiliare e anche come giustamente veniva in qualche modo prospettato con l'idea della richiesta dei verbali delle assemblee e dei documenti relativi ai consultivi di spesa della situazione complessiva del condominio questo fatto di pensare a quelle che possono essere le possibili come dire gli elementi che possono derivare dal fatto che l'appartamento è in un condominio e perciò il rapporto con altri con gli altri e perciò il problema per esempio del disturbo il problema per esempio delle cause in corso che hanno conclusione in un momento successivo all'acquisto o ancora il problema per esempio è una situazione che ormai è molto frequente quella per cui nei condomini c'è per esempio pendente la procedura esecutiva promossa nei confronti del condomino moroso e promossa dal condominio procedura esecutiva che poi alla fine molte volte purtroppo in considerazione del fatto che l'immobile è ipotecato e che perciò tutto quello che viene ad essere ricavato dalla vendita in sede di esecuzione dell'immobile va al creditore ipotecario a quel punto bisogna fare i conti con un buco nella contabilità condominiale che è un buco che a volte può addirittura essere di 10 20 mila euro perché si parla di gestioni e di debiti che si accumulano nel corso di tanti anni sono tutte cose rispetto alle quali è importantissimo che ci sia preventivamente una informazione che ci sia preventivamente quantomeno una consapevolezza della possibilità che ci possono essere successivamente delle sorprese nei termini che ho detto e rispetto alle quali probabilmente già soltanto il fatto di pensare in sede di preliminare e poi in sede di contratto di compravendita a un accordo tra venditore e acquirente che tenga conto di questo che regoli la cosa nel modo più ragionevole anche questa è una cosa che è un suggerimento importante è una cosa a cui pensare teniamo presente tra l'altro e questo è un ulteriore aspetto che va considerato proprio con riguardo al tema di cui stiamo parlando teniamo presente che poi c'è la giurisprudenza recentemente è arrivata a questa conclusione e ormai questo si può considerare un punto fermo che si ritiene che le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili che vengano deliberati dall'assemblea prima della vendita vadano sostenute da colui il quale era condomino nel momento in cui la delibera è stata assunta perciò viene ad aversi anche rispetto alle spese condominali relative all'unità immobiliare che viene compravenduta viene ad aversi questo regime differenziato tra le spese per così dire ordinarie che vanno invece a carico dell'uno o dell'altro in relazione al periodo in cui ciascuno dei due è proprietario e le spese invece straordinarie per le quali invece c'è questo diverso regime per cui la responsabilità anche nei confronti del condominio è la responsabilità diciamo così del vecchio proprietario per cui sono tutti aspetti che in realtà nel momento in cui si fa la contrattazione e si stipula il preliminare devono essere tenuti presenti e questo è un ulteriore aspetto che se mi è consentito ancora proprio un secondo di riflessione volevo richiamare ed è questo l'importanza del preliminare l'importanza del fatto che tutte le cose delle quali abbiamo parlato e stiamo parlando vengano pensate vengano rese oggetto di attenzione nel momento in cui viene fatto il contratto preliminare perché una volta che è stato stipulato il contratto preliminare a quel punto le parti sono tenute a rispettare in modo assolutamente pieno e senza possibilità di modifiche rispettare quello che hanno pattuito in quel momento sono tutte cose a cui bisogna pensare Domini in chiusura su questo volevo solo dire che ci dimentichiamo ogni tanto di quello che sono i fondi di deposito da parte dei condomini perché in realtà nel momento in cui facciamo chiediamo all'amministratore di condominio che ci faccia una relazione sulle spese straordinarie spese ordinarie saldate e dobbiamo anche ricordarci di chiedere quello che sono il fondo di deposito che è una riserva che è ormai un'abitudine che gli amministratori chiedono appunto per ogni esigenza esatto se posso dire proprio su questo adesso come confedilizia noi organizziamo ormai da tanti anni i corsi di aggiornamento per gli amministratori di condominio nei corsi che facciamo proprio questo tema è un tema a cui prestiamo particolare attenzione e proprio con riguardo al contenuto dell'attestazione che l'amministratore deve rilasciare in relazione ai temi di cui abbiamo parlato abbiamo proprio individuato tutta una serie di aspetti che è bene che vengano fatti emergere in quella sede uno dei quali era come è stato giustamente ricordato l'aspetto dei fondi di riserva che sono cose che a volte appunto vengono dimenticate è importante che anche sul fronte degli amministratori di condominio ci sia rispetto a questi temi attenzione ci sia anche professionalità grazie ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria poi parliamo anche di seconde case vediamo come va al mare in montagna e della riforma del catastro tra poco ultima parte di Economa IFVG centrata sul mondo della casa sulle compravendite abbiamo sentito dai nostri ospiti tanti consigli utili per chi vuole vendere o comprare casa ai nostri ospiti a partire da Macoratti chiedo come sta andando il mercato delle seconde case al mare in montagna bene bene perché in tendenza con l'aumento logicamente del mercato cittadino il mercato turistico ha avuto un incremento per quanto riguarda la montagna c'è stata una riscoperta anche di determinati territori dei Friuli sono Sapada è diventata la perla dei Friuli Sapada è un mercato immobiliare che sta crescendo parecchio è molto richiesto abbastanza ha tenuto il tarvisiano è aumentato qualcosina il mercato nella carnia è esploso l'ignano è esploso l'ignano nella zona frontemare quindi nella zona sabbia d'oro i prezzi sono esplosi ecco diamo qualche range anche di prezzo sì per quanto riguarda l'ignano diciamo che la media possiamo oscillare dai 2.000 ai 4.000 logicamente quando dico media ai 2.000 ai 4.000 parlo di un usato abitabile al nuovo in determinate zone frontemare su nuovo possiamo arrivare anche a 5.000 5.500 euro immaginate per tipologie di appartamenti particolari quali attici o cose similari per quanto riguarda il mercato del tarvisiano la media siamo sui 1.300 euro e un metro quadro Sapada è un po' più cara perché Sapada ci giriamo intorno ai 2.000 euro di metro quadro tiene sempre Grado Grado è un gioiellino non è provincia di Udine quindi non voglio però insomma è sempre il nostro territorio siamo il territorio perché siamo 40 km e Grado siamo sempre di media sui 3.000 metri 3.000 euro metro quadro scusate 4.000 in centro storico anche ecco diamo anche qualche numero per quanto riguarda non l'abbiamo fatto prima città di Udine insomma Interland lì insomma quali sono le quotazioni anche se poi il borsino naturalmente che è più che dettagliato ma insomma orientativamente ecco allora il mercato di Udine è un mercato un po' più complesso perché bisogna andare a distinguere le zone ci sono zone che tendenzialmente sono calate parecchio mi riferisco alla zona stazione determinate aree della zona stazione perché se andiamo alle laterali di Viale Palmanova zona Baldasseria e comunque vengono comunamente in modo sbagliato anche concepite come zona stazione ma sono delle zone residenziali che comunque sono richieste la stessa via Lungheria è una zona molto servita immaginiamoci via Della Rossa e via Culeia che vengono comunate a zona stazione invece sono delle zone attaccate al centro storico nelle quali gli appartamenti si vendono molto molto bene diciamo che la media sull'usato siamo dagli 800 ai 1500 euro un metro quadro e su un nuovo invece essendo un nuovo certificato in classe A e altro andiamo fino ai 3000 euro un metro quadro e una cosa interessante quando mi hai chiesto delle seconde case Daniele si sta sviluppando un mercato delle seconde prime case che è una cosa interessante sempre a dispetto del covid c'è chi cerca una seconda casa in città quindi non al mare e non in montagna ma in città logicamente per avere più spazio per fare un secondo ufficio per poterci lavorare e altro Domini velocemente più usato immagino ma insomma com'è anche la tendenza tra l'usato e il nuovo chiaramente il nuovo sia per le seconde case che per le prime case abbiamo passato degli anni in cui dopo il 2011 non c'erano acquisti di seconda case a livello di investimento fortunatamente è un paio d'anni che comunque si sono presentati investitori che hanno acquistato immobili per metterli a reddito e questo secondo me è stato un segnale positivo anche perché siamo riusciti a vendere quegli immobili che di esempio tipo il mini appartamento che in realtà quest'anno nel 2021 è stata la tipologia che è stata meno richiesta ma che però chi l'ha comprato l'ha comprato per avere una redditività alla fin fine e devo dire che la presentazione il problema è la presentazione dell'immobile perché l'immobile purtroppo deve essere presentato in maniera tale che sia accattivante anche per essere venduto e purtroppo mi darà conferma anche il collega Luca che succede il più delle volte di vendere immobili che non sono presentabili sul mercato e di conseguenza i tempi di vendita si allungano notevolmente le difficoltà si allungano ma perché? perché dicono nel condominio sotto è stato venduto un appartamento a una cifra più alta il mio non riusciamo a darlo via ma perché non riusciamo a darlo via c'è delle motivazioni cioè ci troviamo in una difficoltà psicologica a gestire il cliente che vende a dire sistemi quello che è l'immobile bisogna vedere anche come si tengono le cose naturalmente anche questo dà un valore naturalmente casa farima anche con tasse perché la casa porta con sé anche delle tasse soprattutto per le seconde case ma insomma non solo si parla anche di riforma del catastro è insomma ventilata ormai da tanto tempo forse siamo arrivati al momento atteso sentiamo un paio di mesi fa insomma che cosa ha detto il premier Draghi a riguardo vediamo una questione mi preme chiarirla immediatamente nelle varie questioni c'è anche la revisione del catastro la revisione non è proprio una revisione del catastro ma la riformulazione del catastro in altre parole quello che è previsto nella legge delega è che il governo si impegna a come dire a catastare tutto quello che oggi non è accatastato cioè a dire terreni e abitazioni che non sono oggi accatastate procederà anche a una revisione delle rendite catastali adeguandole a quelle che sono le rendite di mercato ma per far questo parte che ci vogliono cinque anni ma l'impegno che il governo prende oggi è che nessuno pagherà di più o di meno cioè le rendite sui cui si basa la tassazione oggi restano invariate quindi è un'operazione fondamentalmente di trasparenza un'operazione che ha un contenuto statistico molto importante informativo molto importante ma non cambia assolutamente l'imposizione patrimoniale l'imposizione fiscale sulle case e sui terreni questo è molto importante dirlo perché nei giorni scorsi si è atteso un pochino a confondere le due cose sono due decisioni completamente diverse la prima è costruire una base di informazione adeguata e la seconda è decidere di cambiare le tasse noi la seconda non l'abbiamo fatta non l'abbiamo presa la seconda decisione quindi noi attualmente stiamo facendo solo la prima e ci vorranno cinque anni quindi nella legge delega è esplicitamente previsto che queste rendite l'accertamento avverrà in questo periodo e soltanto nel nel 2026 se ne riparlerà Avvocato Scalettari il Premier Draghi tende a rassicurare non si pagherà di più un'operazione per far emergere le case fantasma di fatto è convinto di questo o poi alla fine una volta fatta la riforma cambiano le rendite cambiano le tasse No queste sono proprio delle parole che devo dire anche sorprendentemente risento dopo due mesi e devo dire primo sono parole che sono state smentite espressamente proprio dal governo soltanto qualche giorno fa quando ha riconosciuto che la riforma del catastro ha la finalità di determinare un aumento della imposizione sugli immobili con alleggerimento dell'imposizione piuttosto sul lavoro si dice però in ogni caso aumento dell'imposizione sugli immobili quello che peraltro mi ha sempre lasciato veramente stupito nel sentire queste affermazioni che sono state fatte e rifatte da parte del governo è questo si dice ciò che proponiamo è la riforma del catastro perché per poter fare in modo che gli immobili che oggi non sono accatastati vengano accatastati e perché si ponga rimedio a certi così malfunzionamenti a certe irregolarità di classificazione di inserimento nel catastro di beni che in realtà sono indicati in modo inappropriato in catastro ma per fare questo non è assolutamente necessario la riforma del catastro la legge che riguarda il catastro ma il catastro di oggi non il catastro è che ovviamente tutti i beni devono essere accatastati perciò se oggi ci sono dei beni che non sono accatastati si tratta semplicemente di applicare la legge ma la legge che già c'è non si deve rifare la legge d'altra parte io so che ho fatto anche più volte questa considerazione si dice rispetto alla situazione del catastro degli immobili ci sono dei malfunzionamenti bene è come se si dicesse il tribunale di Udine ha deciso una causa sbagliando una sentenza bene bisogna fare la riforma della giustizia in realtà ci sono gli strumenti così come rispetto alla giustizia c'è l'appello nei confronti della sentenza sbagliata ci sono gli strumenti perché se ci sono dei malfunzionamenti del sistema catastale a questi malfunzionamenti in base a quelle che sono le regole interne proprie del funzionamento del catastro si ponga rimedio se poi ci sono beni che non sono accatastati nonostante vi sia una norma che impone l'inserimento nel catastro evidentemente si tratterà di fare rispettare quella norma non è certo necessario cambiare fare la riforma del catastro la riforma del catastro però ripeto è stato poi espressamente riconosciuto che ha la finalità di aumentare l'imposizione fiscale sugli immobili in più e questo è un ulteriore aspetto adesso il discorso in realtà dovrebbe essere ulteriormente approfondito e probabilmente non è questa la sede per farlo però l'idea che è peraltro anche espressa in modo esplicito nel provvedimento del quale stiamo parlando è che non soltanto si mira all'aumento dell'imposizione fiscale sugli immobili in una situazione in cui in realtà tutti siamo pienamente convinti del fatto che la pressione fiscale dovrebbe piuttosto essere ridotta perché lo sviluppo della società lo sviluppo dell'Italia in una situazione soprattutto quale quella in cui ci troviamo evidentemente richiede una diminuzione dei pesi una diminuzione degli elementi che soffocano l'economia ma dicevo non soltanto avrà questa funzione ma avrà questa funzione di aumento del carico fiscale sulla base di un criterio ed è detto espressamente nella norma di un criterio che è informato alla patrimonialità dell'imposizione fiscale nel senso che verrà operata la scelta del stabilire il peso fiscale non in base al reddito non sulla base di criteri reddituali di effettivamente di entrate del contribuente ma sulla base del puro e semplice patrimonio e cioè sulla base del puro e semplice bene del preesistenza della proprietà di un bene indipendentemente dal fatto che questa produca reddito e questo è un sistema che rispetto proprio ai principi di fondo che peraltro sono anche espressi dalla Costituzione articolo 53 della Costituzione è un qualche cosa che non va bene che non funziona è stato veramente chiarissimo su questo grazie ci tenevo a sentire anche la sua opinione a riguardo grazie ai nostri ospiti siamo arrivati alla fine della trasmissione grazie soprattutto per i consigli che avete dato a chi si accinge insomma a vendere o comprare casa questa puntata di Economai FWG termina qui grazie ancora a Luca Macoratti Lino Domini all'avvocato Paolo Scalettaris per essere stati con noi l'appuntamento è per giovedì prossimo grazie anche alla regia di Simone Caramaschi e Francesco Snider arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti